Ha perso la vita all'ospedale Maggiore l'imprenditore modicano Roberto Cannata, storico tipografo della grafica. Il suo calvario è iniziato lo scorso weekend quando ha cominciato ad accusare dei malori. Dimesso più volte in poche ore, il 25 aprile è stato poi ricoverato per una sospetta occlusione intestinale. È morto aspettando l'intervento chirurgico allo stomaco al quale doveva essere sottoposto. La famiglia adesso chiede chiarezza e ha presentato un'esposta alla procura che ha avviato le indagini. Esami più approfonditi, secondo i familiari avrebbero potuto salvare il 67enne che sarebbe stato inizialmente dimesso dai sanitari che gli avrebbero diagnosticato una semplice virosi intestinale. Nell'ASPO ancora nessuna dichiarazione ufficiale sull'accaduto. Intanto si attende l'autopsia e la cartella clinica del paziente è stata sequestrata. Il personale medico ed infermieristico che ha avuto a che fare con la vicenda dei ricoveri e delle dimissioni del paziente dovrà essere adesso ascoltato. Nel frattempo, come prevede la prassi, sarebbe stata avviata anche un'indagine dell'ospedale Modicano. Roberto Cannata lascia la moglie e tre figli, uno dei quali Lorenzo è un noto maratoneta, vincitore di numerosi premi. Ora saranno gli inquirenti a dover accertare se la sua morte poteva essere evitata e se il Modicano è stato vittima dell'ennesimo presunto caso di Mala Sanità.